Smart Sports 2013 N Categoria figlio di puttana No guarda l'icona sembra un po' scritto gay Qualcosa gay E is soft Wii Sports Proprio lui Guarda Ma qua c'è Baseball Sparare Sparare To load the gun Ma cos'è il tiro a segno sto corso? Reload Stai Salute 9 Buonissimo 9 Chia la mia Ma com'è miss? Miss America era proprio necessario il il che è successo perché non la trovi comunque si sono impegnati a fare dei giochi ma no ma ci sarà una cazzata per farlo qua allora perché non lo fai tu perché non ha senso perché sei quello che studia per fare le app coglione non dite la bassa voce cosa quello che studia a fare le app tempo ah oh perfetto ma il tempo è sopra eh sono due voi che ti diciamo ciao 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 amai il braccio ma come miss cosa è successo è già come scarso c'è un po' di bugger che c'era comunque e va bene non è un gioco della EA no mi ha partito la droga lo sento è la mia mano un po' di ciropa per la tosse se c'è una storia ricarica ti non lo fanno io e vi ragazzi non ho nessuno ritardato oh ma se siete così bravi eh cavati dalle bagno esatto no vai oh ci sono io no non mi vede come come batte il record di Giacomo come ho fatto quel bowling bellissimo allora riprende la manotto qua guarda qua ora ritardato miss miss più 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 ma non una cosa la sembra di sciarie per laivessenellata situazione eccetera attualmente sembra che molto più 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 calzata non è un sono stato molto più 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 e più molto più fino in ult No, no, no Mi ha fatto accordo i 10 di filo Cos'è? Un gocce quello che sta facendo l'immagine? Che sta stirando l'ano Ma perché devo ricaricare di nuovo? È giusto, è realistico Spara! Eh no, devo centrarlo Tempo Guarda che c'è l'automira C'è l'automira C'è l'automira Ecco, ma adesso sta ferma Ecco, ti aveva messo Dai cazzo che c'è lei in botta Bravo Giovanni Coglione Non mi prende niente Devi fare il saluto fascista così È morto Oh, pompa questa cosa Che è stata la batteria? Ho finito il tempo Ho perso Ciao Bolz! Oh, poi ti fai capito Ho perso Saluta Bolz È buono Bolz, sai cantare cazzo Perché è partita la colonna Sono una gattereppe? Eh 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 Niente No, non mi prende Riconosci che non sei della famiglia Dio, Cristo Mi arrendo Mi arrendo Mi arrendo Basta Mi arrendo Giovanni Dabb Non sapevo ci può essere anche Just Dance Per stare con soli qua Oh Sentiamo Dance qualcosa Dai Dai sai qualcosa Sì Non lo dite Non lo dò Non lo dò Non lo dò Eh si lega dal cazzo Perché la stai usando per altro Eh Sì Eh Devi uscire quel tele... Ma 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 mi spiei No Hai visto c'è Perché è caratto secondo me C'era scritto select o non selection Qua è il mio due due se lei C'è un po' Sì No 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 No